Grazie a tutti. Che dice, dobbiamo non amare gli altri per poter dire di amare gli altri. E poi ci scrivi in questi termini del giorno di San Giovanni, saremo di bugiati se diciamo di amare Dio e non amiamo gli altri. E' come tale che la nostra sua vita ama. Ha amato gli altri, li ha aiutati in tante situazioni attraverso la sua professione. E' un invito quindi che è un'eredità che la nostra sorella Sandra ci lascia. Quella di aiutare gli altri per poter dire di amare Dio. Ricordavo ai familiari una frase di Sant'Agostino. Ci sono cristiani conosciuti dalla Chiesa ma non da Dio. E ci sono cristiani conosciuti da Dio ma non dalla Chiesa. Interessante questa espressione di Sant'Agostino per dirci che vivere il cristiano è sempre possibile in qualsiasi situazione. E allora dico addio alla nostra sorella Sandra che è una parola umana scomposta dalla sofferenza e dal dolore perché non la vedremo più. Ma questa parola per noi cristiani viene riemposta perché la nostra sorella Sandra è giunta a Dio. E allora dico addio a Dio che ci chiediamo il Signore che c'è lui di raccogliere la sua eredità scrittura per poter la grazia che anche noi possiamo un giorno raggiungerla in partito. Grazie sorella e santo per la tua testimonianza. Grazie a tutti.